Con questo primo post inizia una nuova avventura del Comitato Regionale FIGC-RND Basilicata che per mio volere e dell'intero Consiglio Direttivo ha deciso di offrire alle società lucane affiliate e ai tesserati nuovi servizi di comunicazione e collaborazione. Attraverso l'uso dei più importanti social network tipo Facebook, Twitter, YouTube e Instagram il Comitato con questa nuova iniziativa di comunicazione vuole avvicinarsi sempre di più alle esigenze delle società e creare con loro una rete collaborativa efficace ed efficiente che migliori il flusso delle informazioni. La speranza è che questa possibilità venga sfruttata al massimo dalle società e dagli appassionati di calcio lucani nel pieno rispetto delle regole e dei comportamenti in modo tale da evitare spiacevoli episodi di censura a cui i responsabili del progetto potrebbero essere costretti. Il canale social che utilizzeremo per tutte le nostre comunicazioni sarà Instagram FGC Basilicata. Il Comitato nella sua nuova veste social vi chiede pertanto di partecipare attivamente a questa iniziativa contribuendo alle discussioni utilizzando l'hashtag FGC Basilicata inviando anche foto, video, commenti per crescere insieme.